Ma quanto conoscete bene l'Inter-Miami, la nuova squadra di Leo Messi? E' qualche cosa che forse non sapevate. Dopo settimane in cui si è scritto e si è detto di tutto, Leo Messi ha svelato il suo futuro. Niente Barcellona, niente Arabia Saudita, ma MLS, direzione Inter-Miami. Attualmente l'Inter-Miami si trova all'ultimo posto della Eastern Conference. Solo 5 vittorie e 11 sconfitte per il club di David Beckham. La situazione al momento non è delle migliori. Tanto che l'allenatore Phil Neville, dopo 15 punti raccolti in sole 15 partite, è stato esonerato. Sulla panchina attualmente c'è Javier Morales, 43enne, argentino, nominato allenatore ad Interim. Prima esperienza per lui su una panchina professionistica dopo aver allenato soltanto nelle giovanili. Il nome forte per la panchina dell'Inter-Miami però è quello di Gerardo Martino El Tata. Reduce dell'esperienza mondiale con il Messico, l'ex allenatore del Barcellona e commissario tecnico. Tra il 2014 e il 2016 dell'Argentina è pronto a prendere in mano la squadra, è pronto ad allenare Leo Messi. Anche qui il destino ci ha messo del suo perché il Tata Martino era l'idolo del padre di Leo Messi. Quando ai tempi l'attuale allenatore giocava nel Newell's Old Boys. L'attuale stadio dell'Inter-Miami è uno dei più piccoli della Lega, ma il club ha già annunciato che dal 2025 avrà una nuova casa. Il Miami Freedom Park, un impianto di ultima generazione da 25.000 posti. Messi dividerà lo spogliatoio con Josef Martinez, l'ex attaccante del Torino negli Stati Uniti e una vera e propria leggenda. 103 gol in 144 partite con la maglia dell'Atlanta. In passato hanno giocato anche all'Inter-Miami i calciatori del calibro di Higuain e Matuidi. Nel mirino della proprietà anche Sergio Busquets, Ordi Alba e Angel Di Maria. L'esordio di Messi potrebbe avvenire nella sfida di League's Cup contro il Cruz Azul in programma il prossimo 22 giugno. I biglietti per quella partita sono incredibilmente schizzati alle stelle. Da 29 dollari addirittura a 477. È stata la scelta giusta, secondo voi, quella di Leo Messi?